Ancora emergenza al Cardarelli, esauriti i posti letto e le barelle, scoppia il caos al pronto soccorso ed addirittura c'è stata in corsia la rivolta dei pazienti. Penso che ci sia la buona volontà da parte di tutti di risolvere il problema. Da parte nostra c'è sempre stata molta attenzione, molta dedizione al problema dello sovraffollamento dell'area dell'emergenza. Noi lo affrontiamo da anni con professionalità, con molta dedizione e certamente gli operatori sono anche stanchi perché chiaramente affrontare sempre tanti ammalati, tanti utenti, situazioni particolari, quindi un po' disagiate, crea un po' di tensione. Una situazione che è ben conosciuta dai vertici e dalla politica stessa. Penso che è una situazione ben nota da tempo a tutti. La rabbia dei pazienti forse va anche giustificata in alcuni momenti quando si tratta solo di rabbia. Poi se si passano ad episodi di violenza certamente non sono giustificabili. Aspettiamo un pochettino di capire bene cosa sta succedendo anche al nostro ospedale, quali saranno le iniziative che saranno messe in campo per risolvere o alleviare il problema. Siamo tutti fiduciosi, quindi noi siamo disponibili a tutte le soluzioni e ad accettare qualsiasi soluzione. Ad esprimersi sul punto anche il governatore De Luca, presente questa mattina all'inaugurazione della nuova uscita metropolitana. Avere una sanità di eccellenza, risolvere le criticità che abbiamo registrato, soprattutto al Cardarelli. Abbiamo dato tempi stretti per cancellare la vergogna delle barelle nei corridoi. Sono immagini che dovranno appartenere a passare. Il tutto accade a poche ore dalla visita del ministro Lorenzin che aveva appunto dichiarato che il concetto di posto letto andava oramai superato e che bisognava organizzare migliori modelli gestionali. Neanche il tempo di dirlo che subito si è palesata la realtà dei fatti.